buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porterò una configurazione da ben 500 euro per iniziare a giocare partiamo allora per prima cosa io inserirei una cpu da dal basso costo e da grandi prestazioni il pentium 4560 per soli 60 euro ci porteremo a casa forse uno dei processori qualità prezzo migliori che ci siano attualmente è un processore perfetto per iniziare a giocare ma solo per chi vuole esclusivamente giocare e ovviamente essendo un processore di nuova generazione ha bisogno di una scheda madre di nuova generazione e noi rifichiamo dentro una mci b250 m perché è una b250 beh allora ah sì due solo due slot però due slot di ram però non è essenziale la ram per un computer low budget incentrato solo sul gioco e 8 gigabyte come vedrete basteranno e avanzeranno pure e non giocherete a titoli di alto calibro e qui abbiamo anche una pc rinforzata mettiamo delle ram come come detto prima delle ram di dr4 ovviamente da 8 gigabyte 8 gigabyte 8 gigabyte sono perfetti per giocare ovviamente con un pentium non si può chiedere di più quindi non potrete editare o fare altro ma 8 gigabyte basteranno e avanzeranno 2133 megahertz dopo le ram io inserirei la parte principale però è per un giocatore però gamer la scheda video andrò a inserire una gtx 1050 ti della zotac perché è proprio la zotac e invidia la zotac perché in questo momento ha uno dei prezzi più bassi e quindi va bene perché è invidia perché acquistando una gtx 1050 ti o una 1060 otterrete gratis rocket league e basterà crearvi un account su di forse experience e otterrete gioco istantaneamente appena acquistato il computer e quindi una 1050 ti della zotac è perfetta bene passiamo all'alimentatore alimentatore io avevo pensato un bel evga da 600 watt dai abbondiamo la versione 80 plus bianca evga non c'è nulla da dire e siamo già a 410 euro che cosa ci manca ci manca il case un bel bit phoenix nova per soli 50 euro ci porteremo a casa un ottimo case e se vorremmo potremmo anche inserire un lettore ultimo ma non per importanza io inserirei in questa configurazione un hdd un hard disk da un terabyte puntando al risparmio eviterei di inserire un ssd potrebbe essere una valida opzione ad esempio un sandisk per un aggiornamento bene questa era la mia versione per una configurazione da gaming diciamo leggero da cgrk 500 euro da dadona è tutto alla prossima grazie grazie